Aveva sparato due colpi di fucile ferendo in modo lieve sette giovani, tra i quali tre minorenni. Le indagini partirono nella serata del primo settembre scorso, quando i carabinieri intervennero nei pressi della villa comunale di Torano Castello, dove erano stati sparati i colpi di fucile calibro 12. Il ventenne aveva sparato a terra i colpi e di rimbalzo ferirono i sette giovani. Adesso il presunto autore è stato identificato ed arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Torano Castello e quelli della compagnia di Rende, nei confronti di un ventenne originario di Cerzeto. L'uomo è ora indagato per lesioni personali aggravate, detenzione illegale e porto abusivo di arma da sparo, in luogo aperto al pubblico.